Buonasera, abbiamo tre domande per voi. Ci potete raccontare un episodio particolarmente divertente della vostra vita? Di episodi divertenti ne ho mille da raccontare. Quello che mi fa ancora ridere è quando ho portato a spasso per il deserto un rappresentante delle forze dell'ordine di cui eviterò di dire il nome per ovvi motivi e abbiamo riso tutti tantissimo. Forse un po' si è divertito anche lui ma non lo ammetterà mai. Che rapporto avete con le donne? Amo tantissimo le donne ma il mio cuore è solo di una. Ogni tanto questo mi porta a metterla un po' in difficoltà e questo mi crea grossi problemi. Però l'amore è complicato. Una cosa che non fareste mai? Non farei mai del male deliberatamente a qualcuno e questo mi porta spesso e volentieri a complicarmi la vita perché per non fare male rischio tantissimo e tante volte le cose si complicano oltremodo. Però non si può ignorare la propria natura. Grazie per averci risposto.